ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo fantastico posto posto no 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 tornate nel tuo castello toglietevi dalle scatole nanaro toglietevi sempre qua venire a darmi fastidio faccio tutto vattene nel tuo castello sono legend guarda legend leggi bene legend nano sei fortissimo mi fai allenare adesso fammi una peperonata quanto hai di forza si può sapere io sono ineluttabile ok quanto hai di forza 4k quanto e ho scioppato avete visto quanta energia ho 40 milioni io ho 2,4 mamma mia se non l'avete lasciato dovete subito lasciare un mi piace perché io e kendall stiamo diventando potentissimi e guardate di là ci sono altri castelli altre cose da sbloccare quindi lasciate un mi piace iscrivetevi e commentate con panino alla mortadella oppure commentate con kendall è veramente nab ok no 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 panino alla mortadella senti io mi alleno allora io faccio la spesa sì sì allenate io faccio la spesa io mi alleno sai che io c'ho il petto leggendario è vero non si posso credere io ho trovato il petto leggendario ma dove sei scusa mi sta allenando nel castello mamma mia ormai sono troppo potente 34 milioni di energia dove sei sei di qua ecco mi sta allenando nel per due certo che sei un anerottolo in confronto a questo eh ma guarda un po questo col petto un anerottolo in confronto a te anche se questo è il petto leggendario che bello vedi il mio petto leggendario ok ragazzi allora kendall mi ha consigliato di prendere workout speed e workout strange ok se li prendiamo se li prendiamo dai prendili allenati basta chiacchierare allora in questo video loro devono lasciare almeno ci no vabbè troppo dai 30.000 mi piace e vi giuro che quella porta io sta porta la spacchia testate guarda che secondo me in questo video o ti ci avvicini tantissimo o riuscirei ad aprirla ok inizi a allenarmi ho 41 milioni ho 41 milioni eh mamma mia sai che oh io c'ho ancora 30 milioni e mi sto allenando da tantissimo guarda 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 se vabbè ma ne ho una maria kendall è infatti infatti salirai tantissimo secondo me oh mio dio sono già 4.10 si deve arrivare a 6 ci arrivo ci arrivo ci arrivi secondo me non lo so è difficile ah in caso ci alleniamo un altro po' a 5 secondo me ci arrivo guarda 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 si si anche secondo me ma no ero lezenda adesso sono riped ma perché riped è meglio significa che sei tirato ma no io volevo essere lezenda scusa ma è meglio riped vabbè lasciamo perdere io sto arrivando quasi a 3.000 sai oh mio dio comunque tu sei un nerottolo eh ti decidi a crescere ma io non gioco tutto il giorno come te scusa eh ma io non gioco tutto il giorno e non scioppo non ho mai scioppato sì no ecco ora ti cresce il naso muoviti muoviti cavaliere ancora 27 milioni di energia mamma mia io ne ho 33 e sono già 4.40 ma ti rendi conto? eh ce la fai mi sa che ce la fai sai comunque voi ragazzi scrivete nei commenti a che livello di forza siete arrivati perché non sappiamo se uno di voi è più forte di me kendall se lo stavamo chiedendo secondo me sì secondo me sono fortissimi perché loro conoscono tutti i segreti codici le cose per avere un maestro così bravo come bella faccia devono essere oh sono torta sono no sono bella faccia sono be beef beef cake ma cosa vuol dire una torta una torta di carne sono una torta di carne è un manzo ecco sono un bel manzo forza sono un baby bear sono un baby bear un orso sono un baby orso oh mio dio arrivo a 5 forse io invece sono invece sono solo spesso cioè tu sei un orso io sono un orso peloso guarda guarda qua siamo in ordine piccolo medio grande dai 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 e comunque se avevo 40.000 ti rendi conto che non si arrivo neanche a 6k come non ci arrivi ma perché quanto hai adesso? 4.80 no quanti milioni? ho 22 milioni quindi già hai sotto 20 milioni dai 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 sì ne ho stati 20 e mi ha dato solo 80 mi ha dato eh 90 oh mamma mia ok con 20 milioni te ne da 90 con 20 milioni te ne da 90 beh non è 90 in realtà è 900 è 900 sì però sì è tanto dai sono un orso sono diventato un orso arrivo a 5.000 sono diventato un orso sai cosa fermo prova a spingere la porta con 5.000 5.000 ecco mi oddio guarda quanto sono forse sono potentissimo ora lo spingi l'idra ora l'idra secondo me ce la fai togliamo sta porta prova prova vediamo va non ci credo non ci credo non è vero quasi l'ho tirata su Kendall tutta tutta no dai t'aspetto aspetta aspetta un attimino continua ad allenarti continua ad allenarti non si creda l'energia non si creda sai cosa secondo me dovresti tenere 5 milioni di energia il pet leggendario eh secondo me lì c'è un pet leggendario da 5 milioni ho un'idea ho un'idea continua ad allenarti ho un'idea anzi tieni tieni l'energia carrello ok carrello per i nabbi eh ma fammi fammi aumentare un po' no carrello per i nabbi ma sono solo 3 mila ho un petto carrello per i nabbi bene ok e come si dice bravo grazie eh gentilissimo carrello per i nabbi si dice quindi hai visto già cosa c'è là dentro mamma mia eh no entro dentro no questo nabo vuole entrare no 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 non deve perpetrarsi c'è solo un nabo che può entrare quel nabo è Kendall vieni ok arrivo vieni ecco vuoi entrare oh mamma sei pronto sei pronto vieni a vedere oh mio dio il paese dei balocchi degli ingranaggi fammi vedere aspetta no sono caduto dalla mappa devi ritornare a prendere cavolazzo muoviti 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 non si credo e vieni c'è un robottino ci sono dei robot c'è un raso cosa significa ci sono dei robot da spostare ok sto arrivando oh ma sono un gigante ti aspetto mio dio arrivo ma se torniamo ma se torniamo all'inizio ma che cavolo sei diventato che vuol dire ma ma siete fuori io mi vedo normale io ti amo un mostro ragazzo aspettami ma sei più grosso di me sei non mi tre del carrello ma che cavolo succede il mio carrello ma se ti stai fermo forse da scambiare ma che cavolo è successo ma che ne so sei diventato un mostro ma non è vero io mi vedo normale te lo giuro che sei più grande di me eccoci ragazzi ma guardate che brutto che è diventato oh mio dio bella faccia leggi oh mio dio per quattro no pet leggendario pet leggendario no no ma stai chiestando con tutti con tutto il cosa che c'hai devi allenarti c'hai boost tu due milioni solo due milioni solo due milioni pet leggendario solo due milioni ok allora teniamoci tipo sei milioni così lo possiamo fare tante volte dai guarda quanto salgo oh mamma mia oh no 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 qui è troppo qui è troppo poi è troppo poi è baccata ma sai quanto sono sono già 5.22 oh mio dio quindi hai fatto 220 in un secondo ma ragazzi ma che cavolo è diventato io ti giuro quando riguarderai questo video capirai eh sono diventato più forte di te ah sì sei bellissimo non sei mai stato così bello ma perché allora facciamo una prova guarda iniziamo a rate no come si dice iniziamo a come si dice iniziamo a rate sì vabbè allora ma io voglio prendere il peso 5 idra no 2 idra sì sì 80 non le spingerai neanche a uno secondo me se non riesco a spingere no ce l'ha fatto oh 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 non ci credo non ci credo non ci credo non è vero 2 2 attento veramente vai 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 bella faccia ce l'ha fatto 2 idra 2 idra vieni subito qua bella faccia aspetta vediamo quanto da l'idra sai quanto da l'idra 2,65 allora guarda prendiamo i pet e vediamo chi trova il leggendario sei bruttissimo sei pronto vai guarda che belli che sono comune io pure comune da comune aspetta aspetta città dai 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 ancora ti prego niente comune di nuovo riprovo eh non ne ho più mi sa comune comune cavolo no eh io trovo solo comuni però oh raro raro no sì il robot raro non ci credo sì da quanto da quanto oh mio dio adesso te lo dico oddio non ci quanto da quanto da no vabbè ma non riesco neanche a leggere da quanti teoria aspetta te lo dico non ci credo 100.000 era quello da 5% Kendall quindi aspetta sarà 100.000 vediamo è da è da 100.000 Kendall oh mamma mia ok allora renditi conto che il mio cavaliere leggendario dell'altro livello è più scarso di quello common di questo livello non si credo e l'altro ho trovato uno spider che dà 80.000 non si credo allora guarda io inizio a equipaggiarli e gli altri li vendo ti è lì che possiamo fonderli ti ricordo no no col cavolo io li vendo guarda guarda sto robot mio dio guarda quanto è pesante non se la faccio se la faccio ce la fa è facile per te però guarda però guarda però guarda quanto si metto ce la faccio io ce la faccio io oh mi spinge indietro oh mio dio mi spinge indietro 400 capo guarda che la faccia mi spinge indietro ho visto Kendall comunque per favore allora per tutti i fan che ti stanno guardando per favore rilogga te lo chiediamo per favore va bene dai mamma mia avevi tutte le braccia staccate dal corpo ma che dici oh mio dio non si credo due non se la faccio non se la faccio prenderne due oh ecco ti qua non hai rotto guarda quanto siamo io con un salto vado di là guarda che roba ma anch'io salta 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 facciamo paura cioè la gente che ci vede penserà ma guarda questi gigantoni guarda questi giganti guarda che sciopponi mamma mia però guarda che man mano diventiamo sempre più piccoli è vero è vero è vero il castello è enorme allora mamma mia mamma mia che roba vai torniamo di qua dai aspetta me la faccia oh no eh come si dice per favore come? puoi prendere il carrellino eh ma com'è che si diceva vai me la faccia allora una volta si diceva perfetto tipo sei il più forte cosa dai prendiamo il carrellino dei nabbi ogni volta ragazzi devo prendere questo carrellino oh basta spingermi ecco un attimo poi arriverà il giorno che mi sveglio e vedo kendall a 100k di forza che ha merdato tutto il giorno sì infatti io stannote non vado più a dormire vai 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 eh sono sotto terra aspetta oh cavolo aspetta ci penso io sono morto ma porca miseria non mi dire che torni quel mutante eh può essere no 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 arrivo eh mi aspetti no no vieni oh mamma no no sei normale per ora ok mi vedi quindi ti vedo ti vedo dai che ti aspettiamo vai entriamo sono un big bear sei qui? vieni vieni prendilo andiamo piccoletto ma io qua ci entro ed è nell'altro che non riesco andiamo nanerottolo verso la conquista del mondo oh mio dio ok siamo arrivati comunque sono fortissimo c'ho 3,30 siamo arrivati kendall ok mi alleno oh mamma mia pet wow wow comunque questo robot riesco a spostarlo no non ce la farei mai guarda non ce la faccio eh ma quanto hai 5.000 o ci serve moto o 5.22 ce la faccio perché rotola dai dai piccoletto ah vedi guarda guarda come rotola grande dai 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 muoviti non ci credo dai ma chissà cosa c'è nel prossimo non ne ho idea si intravede qualcosa si guarda guarda che ce la faccio quanto dà io ho finito l'energia darà un milione oh cavolo mezzo milione beh c'è la discoteca no vabbè sto cosa non si riuscirà mai nella vita a spostare proviamoci no non so non si muove non si muove di una virgola kendall sai quanto si vuole di là 9.000 oh mio dio ritorno indietro io non riesco ad allenarmi dove sei tu io mi alleno io mi alleno a un anerotolo continuiamo tu riuscivi a spingere i cavalieri con 3.000 no? si ok no 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 avevo 4.000 mio caro tu hai solo 3.000? io ho 3.400 vabbè ma ormai ti ho dato la paga eh vabbè ho capito si ma devo tornare cosa? niente devo tornare di qua comunque dove? eh di qua purtroppo ti devo rompere le scatole di qua basta che non ti prendi tutto no no non mi prendo tutto dai fammi allenare pure a me non ti preoccupare non mi prendo tutto ora che abbiamo i pet migliori ci devo fare tantissimo no ma prendi pure l'idra sai il coraggio ma chi vuole prendere l'idra? oh non ci riesci levati moscerino ora prendo 3 tavoli e 3 obelischi vediamo quanto oh oh mio dio quanto quanto 3 milioni? 3 milioni e mezzo mamma pesano quei tavoli mamma se pesano devono pesare veramente tanto quei tavoli vero? ma possibile che dovresti spingerli? io prendo anche un idra io prendo anche un idra non ce la fai vediamo come il trattore con la volta non ce la fai presa sì non ce la fai ok vediamo non ce la faccio? oddio ce la faccio eh però è lei nooo devo andare a zig zag a zig zag ce la faccio guarda a zig zag a zig zag guarda che anch'io ce la faccio no ce la faccio bam 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 l'idra la devo togliere bam 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 siamo super forti pensa a quelli che arrivano qua e vedono questi sì spostano tutti quelli sì guarda questo che sposta solo l'obelisco oddio ho già fatto 6 milioni assurdo guarda guarda me guarda me mamma mia dai piccoletto ma non dovevi superarmi ti hai detto ma quando mai l'ho detto poi faccio superarti se scioppi tutti i giorni ma non ho mai scioppato ragazzi dovete sapere che il suo gioco preferito scioppa in continuazione sono i codici e grazie ai codici sì sì i codici quindi a quanto sei adesso? 3,5 quasi mamma mia io mi vado ad allenare ok 10 milioni vediamo vediamo con 10 milioni ma prendi i pet i pet dici? eh io direi un pet più un allenamento un pet più un allenamento ok ecco teleallenamento per quanto? comune grazie Kendall comune prego prego ok prossimo comune grazie ma ho detto uno si possono unire comunque ti ricordi? comune grazie ti voglio bene mi sa che non ne hai abbastanza comune grazie ti voglio benissimo comune grazie ti voglio bene io non ti ho detto di comprare solo pet ti ho detto di allenarti grazie a Kendall adesso ho quanti? 1,2,3,4,5,6,7 comuni che posso combinare ne mancano due e cosa mi dà dopo secondo te? eh ti darà il leggendario la versione sua però è leggendaria ok devo prendere il pet ne vale la pena ne vale la pena ma Danerotto vi potete spostare? io mi dovrei allenare qua anche io mi sto allenando eh permesso permesso vado a spostare i trattori ho capito va bene guarda questo porca miseria ma io adesso un giorno torno di là e traino tutti traino il mondo traino tutti i giocatori di Roblox non puoi farlo ce lo faccio oh ma ti levi te io sposto i trattori oh ora riesco a spostare due trattori alla volta ma guarda questo due trattori? sì cioè una volta il trattore era impossibile no te era impossibilissimo no te era impossibilissimo ok allora a breve posso comprare posso prendere altri due pet e vediamo ne unisco nove ne unisco sì ne unisco nove certo secondo te cosa mi da quindi secondo me ti dai il leggendario la sua versione diamantata quindi quello che ho quello che hai per un leggendario sì ok ok va bene vediamo vado dovrebbe essere così vediamo te lo dico adesso vado adesso augurami buona fortuna eh se trovi quello ti dà 100.000 cioè hai un boost di 200.000 ogni volta vediamo vai vediamo se è bello oh common come common mi ha trovato la navicella da 30% mi hai fatto eh cosa cosa no non è vero cosa cosa oh mio dio dal 3% rare play interbot è il più raro di tutti no ok common lo unisco lo unisco li unisco non ci credo non ci credo non ci credo cosa non ci credo cosa aspetta fammeli combinare oh mi fate combinare o no ah no non li ho trovati eh che ne l'ho trovato una indovina quanto mi dà qua 120 130 oh mio dio 130 no vabbè ragazzi ma cos'è cos'è siamo diventati dei mostri siamo diventati dei mostri non siamo più umani se torni indietro la gente ti vede come un super gigante ma non lo vedi neanche il mondo non lo vedi neanche un giorno torneremo indietro Kendall dove tutto solo per curiosità dove tutto è cominciato infatti cosa ho trovato di nuovo raro no dai per evitare eh ne ho due dammelo è il bello che non posso non lo uso neanche quello perché quello dallo a me dallo a me e come faccio scusa eh non lo so non si può ah mi dispiace Kendall trovato ok li uniamo vediamo combina non ci credo guai mi ha dato quello che ti serve ho tre diver bot che danno centomila mamma mia vorrei vorrei dartene uno sai cosa no tienilo sai perché mi sa che puoi shoppare i i pet per due cioè tipo anziché averne due nei tre e quattro e così via dici si guarda vabbè intanto vendo quegli altri intanto vendo tutti questi equip più un pet un pet in più costa 299 robux dove è su game pass è vero è vero è vero lo prendiamo lo prendiamo la prossima volta perché per questo video è tutto ragazzi adesso ci continuiamo ad allenare io continuo ad allenarmi con questi ingranaggi riuscirò a spostare quella porta e speriamo che Kendall diventi un pochettino più forte perché è veramente nabbo giusto Kendall ma sono quasi quasi ma sono sì e da noi è tutto ciao 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 ciao